Ciao a tutti, non fate caso allo smalto che è un po' scantucciato, ma non avevo voglia di toglierlo. Allora, qui è arrivato il pacchetto Yves Rocher, non so come mai, però come al solito qualcosa succede durante gli ordini. Io avevo fatto l'ordine quasi un mese fa, il pacco l'hanno sperso, non so che tipo di problema avevano avuto, non mi hanno neanche contattato, hanno contattato la responsabile di zona e poi lei con molta calma mi ha rigirato questi mail, quindi ho dovuto fare l'ordine a un giorno di scadenza dell'album, quindi mi ha girato parecchio le scasole, anche perché l'album che c'è ora, attuale, è in vigore dal 29 di aprile, quindi nel senso siamo al 4 e io non ho ancora avuto tempo di fare l'ordine con questo album, quindi già ero parecchio scocciata. E inoltre nel pacco manca roba, che tra l'altro erano le offerte dell'album precedente, per cui non sono più riordinabili. Quindi ecco, il pacco fatto malissimo con la roba tirata dentro, a me queste cose non piacciono, infatti ogni volta sono sempre più scocciata e molto probabilmente smetterò, perché sono stanca di dare sordi a queste persone che non se li meritano, cioè prodotti sono buoni tutti quanti, però mi dispiace, preferisco prendere il treno, andare a Pisa e comprarli al negozio. Comunque, questo ordine microscopico a questo punto, perché tanta roba manca, vi faccio vedere subito. Allora, intanto mi hanno ordinato questi 3 gel doccia, sono uno al chicco di caffè, uno ai fiori di cotone e invece questo qua al pompelmo. Poi mi sono stati ordinati due shampoo, uno è questo qua di stricante e uno è questo qua, brillantezza e vitalità, luminosità. Poi, inabbinato allo shampoo di stricante, quest'acqua qua di stricante. Li shampoo, ve lo ricordo sempre, hanno un inci buonissimo. Quindi, poi mi è stato, aiuto, casca tutto, ho ordinato l'olio secco al monoi, anche questo è buonissimo, d'estate va tanto e ha un odore fantastico. Poi, un gel doccia, questo qua, al cocco, con il relativo profumino. Eccolo qua, il profumino abbinato, sempre al cocco, ovviamente. Poi, una protezione solare, questa qua 30, è uno spray olio però a zero tracce. Questo l'ho comprato anch'io l'anno scorso e mi sono trovata molto bene, tra l'altro ha un odore fantastico. Poi, c'era un volantino con delle rimanenze vecchie e quindi io ne ho approfittato, ho preso alcune cosine per me. Allora, vabbè, intanto il mini profumino, che è questo qua al tè verde, questo qua viene tipo un euro e io me lo sono voluto comprare per me. Eccolo qua. E' questo qua. E poi, appunto, come vi dicevo, c'erano queste cose dell'album, di album vecchi, natali, così, e quindi ho voluto ordinarlo. E ho preso la crema a mani arancia e cioccolato, questo era dell'edizione natalizia. Vi dico anche quanto l'ho pagato, solo tanto c'è la fattura qua. Un euro e 95. Poi ho preso due matite, queste qua, che sono bicolore, e ne ho prese due. Una è questa qua, verde e viola. Non so se si riesce a vedere bene il colore. Eccola qui. E una, invece, è nera e... Boh, sembra un po' un arancione... Boh, non lo so, comunque va bene. Questo è il colore. Le matite le ho pagate 2,95 euro l'una. E poi ho preso anche questa qua, che era la cipria opacizzante. E... Eccola qua. Io mi sto trovando benissimo, tra l'altro però l'ho quasi finita, la cipria, quella duo abbronzante, che mi sta piacendo tantissimo. E quindi ho detto, vabbè, prendiamo quest'altra, si guarda com'è. Mi sembra molto chiara, però... mi sembra anche bella, come cifria. Io mi vedete in pigiamo, ovviamente, eh. Cioè, sono con la vestagliona. Va bene, quindi, questo era il mio ordine piccolissimo. Tante cose mancano. Però, vabbè, ormai è andata così. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!